Non è un big match senza la probabile formazione della partita, quindi oggi sono qua insieme a Giorgio Gigante, GioGiant, per fare appunto questa cosa, come giocheremo domani, difesa 3, difesa 4, gli interpreti, i ballottaggi, io vi dico tutto, tutto quello che ho in testa, ma fatemelo sapere anche voi qui sotto nei commenti, mettete un mi piace come sempre a questo video, ma siete sempre bravissimi, cerchiamo di arrivare almeno 2000 like per le probabili formazioni dei big match della Juventus e soprattutto scaricate OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, è completamente gratis. Come al solito, ma non potete farvi sfuggire all'interno del vostro cellulare, del vostro device, del vostro tablet, un'applicazione come OneFootball, dove domani potremo vedere anche la formazione ufficiale. Ragazzi, mettetevi comodi, ecco qua le mie scelte, le nostre scelte. Ciao Giorgio, grazie per essere qua con noi. L'abbiamo visto, in live su Twitch, è complicato fare la formazione della Juventus. E allora io ti chiedo, cerchiamo di fare, di ipotizzare una formazione della Juventus per la gara di domani, la formazione titolare. Ok? Ci sei? Proviamo? Yes. Ok, quindi come ti ho imparato? Come mi hai imparato? La formazione della Juve parte da una difesa a tre. Yes. Ok, quindi immaginiamo perlomeno di avere Scesni in porta. Quindi, eccolo qua, abbiamo scritto Scesni. Poi, adesso dobbiamo già inventare. Vabbè, diciamo che la certezza numero uno... Ah, te la vuoi togliere proprio così? Eh sì, mettiamo il Bonucci centrale così. Ah, non Bernardeschi a sinistra? Pensavo Bernardeschi a sinistra. Ma già Bonucci centrale, in realtà, non so quanto sia una certezza. Però mettiamo Bonucci centrale. Mettiamo Bonucci centrale. Ok. Poi? Perché non è una certezza? Perché nelle ultime partite abbiamo visto Bonucci sulla destra e centrale. Un giocatore che non ti immaginerai mai. Giorgio Chiellini. Ah, ma è a disposizione per domani? Beh, in Champions ha giocato titolare tutta la partita. Quindi io immagino di sì. Si è fatto male... Chiellini centrale. Ha giocato Chiellini centrale tutte e due le volte in Champions. Sia col Ferrenvaros, sia con la Dinamo di Kiev. Però, ovviamente, diamo la certezza di avere Bonucci. Comunque domani c'è anche Demiral. Domani c'è anche Demiral, perché è tornato alla squalifica, no? Era squalificato in Champions. Ok. Ipotizzo Danilo a sinistra e Demiral a destra. Sì, per dare un pochino di logica. Come ipotizzo quadrado. Vabbè, quindi per come mi hai imparato tu... Sì. Il Chiellini centrale perché Bonucci è un po' più corsa sulla destra, no? No, semplicemente perché per fare la scalata dovevi per forza di cose mettere Chiellini sul centro-sinistra e Bonucci sul centro-destra. Ah, eh sì, 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 sì. Hai capito? Perché sennò me giocavi con Chiellini a destra. Assolutamente. Ed era un po' una follia. Eh no. Ok. E immagino Cristiano. Ma sì, mettiamocelo. Visto che per molti è un problema, no? Davanti io ipotizzo ancora Morata. Eh, direi. Anche se in realtà in questo momento sta giocando tante partite, è una certa, anche Alvaro dovrà riposare. E poi iniziano... Diciamo che c'è la pausa, quindi... Al 99% dovrebbe... Dovrebbe giocare. Sì, 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 esattamente. E poi iniziano ad esserci un po' i dubbi. E qua facciamo un respiro profondo, contiamo fino a tre. Allora, intanto ci sono i dubbi legati al centro-campo. Perché come ti dicevo, in questo momento Pirlo sta un po' ragionando sull'avere tre centrocampisti. Che poi possano essere due più una mezza punta, sicuramente, però si sta schierando sempre più con un centrocampo a tre per dare un po' più di densità all'interno della Juventus. Quindi, con Ramsey fuori e con Kedira non giudicabile come giocatore all'interno della Rosa, ti chiedo. Secondo te, come ci mettiamo con quelli lì? Allora, io ti faccio un'altra domanda, invece. Mercoledì, se avete giocato mercoledì e non martedì, come avete giocato lì? Allora, abbiamo giocato con Ramsey come player 11. Ok. E con Rabiot come player 5 e con Artur come player 6. Quindi McKennie ha, tra virgolette, riposato? Allora, McKennie ha giocato titolare con l'Ospezia. Ok. È entrato mercoledì? È entrato mercoledì dove ha fatto l'assist, il velo. Non l'assist, il velo. Sì, l'ho visto. Sul gol bellissimo. Io ce lo metterei allora. Dove? Allora, visto che Ramsey è infortunato, mi hai detto, penso sia l'unico che possa giocare come player 11. Tranne se non voglia mettere Dybala? Il problema è che io volevo esattamente arrivare qua. Secondo me McKennie verrà schierato in quella posizione lì. E McKennie, come ti dicevo nella live, lo sto vedendo sempre più come giocatore totale a tutto campo. Addirittura c'è stato un momento in Juventus Sampdoria, quando McKennie ha esordito la prima partita dell'anno, dove è andato a fare l'esterno di destra. E anche con l'altro giorno con l'Ospezia abbiamo visto giocare tra l'esterno di destra e la tre quarti. Comunque a gamba, quindi... A gamba e si butta molto dentro. Anche con l'Ospezia abbiamo visto che comunque l'assist per Morata è suo, quello a porta vuota. Il velo in Champions è suo. Il velo in Champions è suo, quindi lo stiamo vedendo molto positivo, molto propositivo, molto vicino all'aria. Quindi secondo me, anche secondo me McKennie potrebbe giocare in quella posizione lì domani, vista anche l'assenza di Ramsey. Rabiot è partito dall'inizio in Champions? Sì. E l'ha fatta tutta. Insieme a Bentancur? No, Bentancur è entrato nel secondo tempo perché Artur aveva problemi gastrointestinali, di digestione. Eh, allora io ci metterei Bentancur. Dove? Sul 6 penso, poi 6 o 5. Perché il dubbio in questo momento qual è? Gioca ancora Rabiot? Gioca ancora Artur? Perché Artur sarebbe la terza della titolare di fila. È un giocatore che comunque ha bisogno di giocare e abbiamo visto quanto può essere indispensabile. Secondo me la Juve farà fatica a giocare senza Artur durante questa stagione e per come vedo io il centrocampo la disposizione migliore è Artur e Bentancur. Con Rabiot comunque che sta facendo delle ottime prestazioni ma che vedo ancora come riserva. Quindi io ipotizzo questa cosa qua. Sì, anche io Bentancur. E sulla sinistra? Eh, sulla sinistra... Han giocato sia a Chiesa che a Kuluseski mercoledì. Kuluseski 0 minuti. Ma ha giocato mai sulla sinistra Kuluseski? No. Kuluseski ha fatto 0 minuti l'ultima volta e ti dirò di più. Ha fatto la riserva anche con lo Spezia. Quindi le ultime due partite della Juve vinte entrambe per 4-1 contro avversari modesti. Kuluseski o l'abbiamo visto poco o non l'abbiamo visto in campo. Quindi ha praticamente giocato sempre Chiesa lì? O fra botta o quadrato. Chiesa è partito titolare sia con lo Spezia che in Champions, giusto? Sì, confermo. Ma se non... Per il discorso che ti facevo in live io dubito che rischi fra botta lì. Allora, c'è un però. Noi dobbiamo anche ragionare sullo Shift. Sì. Quindi in questo momento il cambio è questo. Ok? Sì, quindi fra botta si troverebbe a fare il quarto di centrocampo che... E non ha senso. E non me lo vedo proprio. Quindi in questa disposizione io qua sono obbligato a metterti Chiesa. C'è un dubbio. A meno che... A meno che... Vai. Vediamo se l'hai capito. Non fa sempre quel discorso di quadrato a piede invertito. Ok. Però in quel caso cosa devi fare? Perché proprio qua voglio andare. E in quel caso quadrato va al posto di Chiesa e diventerebbe McKennie terzino, ma non penso. No, no, sbagli. Sbagli. Allora c'è Kuluseski che scende. Allora. Per fare questo discorso bisogna pensare che devi cambiare i centrali. No, no, quadrato scende. Fa Demirall il terzino. Devi cambiare i centrali. Sì. Fai giocare Chiellini. Qua fai giocare Quadrado. E qua puoi far giocare anche Kuluseski. O Chiesa stesso. Però a un certo punto arrivi a fare una roba del genere. Qua in realtà potresti mettere anche Demirall. La cosa importante è che Danilo cambi posizione. Sì, sì, sì. È per quello che preferisco Chiellini piuttosto che Demirall perché è molto più logica. Però se Chiellini è partito dall'inizio mercoledì... Infatti secondo me non giocherà. E ci sta Demirall come aveva messo all'inizio. Sì. Quindi le opzioni sono due. O Danilo gioca sul centro-destra o Danilo gioca sul centro-sinistra e a seconda di questa cosa si porta dentro l'esterno. Sono anche dell'idea che Quadrado col Mancino l'abbiamo visto con la Roma. L'hai visto anche te con la Roma. È stata una partitaccia. Quindi io sono più per Danilo a sinistra. Però è l'unica volta che praticamente l'abbiamo visto. Perché anche con Napoli era ipotizzabile. Però non l'abbiamo visto in campo. Quindi secondo me lo può riproporre. Poi il discorso è chi vuol far giocare? Chi è Saukuluseski? Perché da lì poi parte tutto. Bravissimo. Il discorso parte tutto da chi vuoi far giocare. Perché siamo intercambiabili. Abbiamo tanta possibilità di far giocare uno piuttosto che l'altro. Poi è ovvio che ci sono alcuni ballottaggi. Potrebbe sorprenderci con Di Vallo al posto di Morata. Potrebbe sorprenderci fino a un certo punto con Rabiot al posto di qualsiasi altro centrocampista. Perché Rabiot comunque... Sì ma non cambia in termini proprio di posizionamento quella roba lì. È giusto un cambio di uomini però... Cambia a patto che... A patto che non sia McKennie quello a scendere. Sì. Perché nel caso poi dovresti far giocare che ne so Kuluseski come trequartista. Però i dubbi che mi porto dietro sono questi. E secondo me la formazione titolare sarà quella che abbiamo schierato con i primi. Sì perché se mi dici che Kuluseski sono due o tre partite che non parte dall'inizio vuol dire che c'è qualcosa che non va. È anche vero che Chiesa sarebbe la terza da titolare consecutiva. È anche vero che Chiesa è molto più esterno che Kuluseski a tutta fascia per fare questa roba qua, per fare questo tipo di gioco. E Kuluseski secondo me ha partita in corso un'ottima arma. Perché pensiamo che in questo momento la Juve può permetterci il lustro di tenere Dybala e Kuluseski in panchina. Che se le cose vanno male... Eh minchia. Diciamo che la partita possono risolvertelo. Però non lo so. Io sono di questa idea. Secondo me la formazione titolare sarà una roba simile a quella che abbiamo messo con i nomi sopra. Quindi in bianco grosso. E non quelli sotto in bianco piccolo. Sì anche secondo me. Bene. Vediamo se l'abbiamo beccata. Vediamo se anche i ragazzi che stanno guardando il video qui sotto possono nei commenti farlo. Però non escluderei del tutto il Quadrado lì a sinistra. Sì sì. Sta tutto nel capire se vuoi far giocare Chiesa o Kuluseski. E nel caso ci si adegua. Perché Danilo e Quadrado possono giocare un po' dappertutto. Juve e Camaleonti che diciamo così. Pronostico per domani? Pronostico per domani un bel 2 a 2 scoppiettante. No 2 a 2. Vabbè ragazzi speriamo che Giorgio possa non averci beccato. Grazie Giorgio. Possono passare anche sul tuo canale YouTube che trovano qui sotto in descrizione. Alla prossima. Ciao.